secondo set di lavoro con l'utilizzo della palla ok utilizzerò sia la palla che è il mio materassino e partirò sempre con dei lavori di inclinazione ok ma questa volta verso il basso la palla ok diminuisce la distanza stessa rispetto a un'inclinazione maggiore e non solo vedremo anche nello sviluppo del set quanto influenza può avere la palla quindi mantengo qui questo set e poi lo trasporto nuovamente sul materasso e infine nuovamente qui ok lascio qui gambe sotto il bacino se voglio i piedi leggermente ex arrotati come preferisco ok inspira trattieni espira inspira trattieni espira passa da dietro passa da dietro in andiamo avanti in mantieni circonduzione su dietro 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 aumentiamo ancora una volta dietro dietro